I più grandi nomi della musica classica, insieme alle giovani stelle internazionali, si daranno appuntamento a Castelnuovo dal 22 giugno all'8 luglio per l'International Academy of Music Festival. Una ventina i concerti tenuti da alcuni dei migliori artisti del panorama musicale mondiale, grazie alla manifestazione che il DAD 2003 porta nel Valle del Serchio alcuni tra i migliori interpreti di musica da camera della scena internazionale, giunta quest'anno alla sua sedicesima edizione. Un cartellone ricchissimo, pieno di concerti, ringrazio tutti gli enti, tutte le banche che hanno aiutato la realizzazione del festival, che è un festival veramente ambizioso. La maggior parte degli eventi sono gratuiti, quindi questo è un orgoglio per noi, riuscire a portare la cultura musicale a tutti, senza neanche un costo di un biglietto, più o più delle volte, e dare anche una grande ricchezza dalla musica da camera, dalla musica sinfonica, dal jazz, e quindi dal 22 di giugno all'8 luglio, una grande opportunità per tutta la Garfagnana di venire a sentire i nostri concerti. Coinvolti sono ben otto comuni, fra Mediavalle e Garfagnana, quindi questo è anche un altro segnale di apertura. Castelnuovo è il centro, ma ci piace coinvolgere tutte le realtà vicine. Venerdì 22 giugno si ripete la fortunata formula con l'apertura di un'anteprima jazz, alle 21.15 al Teatro Alfieri di Castelnuovo, con il duo Fresu Bonaventura, un evento speciale realizzato grazie al sostegno di Banca Mediolanum.